La gestione dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo non può mortificare le professionalità lucane e soprattutto rappresentare una terra di conquista. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianne Leggeri che chiede le dimissioni del direttore generale Massimo Barresi. E di questi giorni la nomina del neodirettore sanitario Rosario Sisto iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati predisposto dalla regione Campania e del direttore amministrativo del San Carlo di Potenza Maria Acquaviva il cui nome è stato attinto da un elenco di idonei dell'Asp di Cosenza. E ancora, continua Leggeri, è stata richiesta anche la concessione di un periodo di comando a Potenza della dottoressa Rosa Greco in servizio presso gli uffici gestione risorse economico-finanziarie della stessa Asp di Cosenza e dal prossimo 1 settembre un autista di ambulanza proveniente dal Santo Buono di Napoli potrebbe raggiungere l'azienda ospedaliera San Carlo a seguito di richiesta di comando in uscita. Un segnale gravissimo per la nostra sanità che dimostra come non vengano valorizzate le risorse umane del luogo e si preferisca ricorrere in continuazione all'esterno con l'attuale gestione. Per questo motivo, alla luce di tutto quanto sta accadendo all'azienda San Carlo, sottolinea Leggeri, viene naturale chiedere le dimissioni di Barresi.